No, Armando è diverso, lo so. È così, finché Armando l'amerà non potrà entrare in nessun posto senza di lei. Ma non sarà in eterno, Armando le tornerà. Messire, supponiamo che io le dica che non potrò vivere a lungo. Ah, in tal caso la sgriderei come una bambina e al tanto sciocca anche. No, è vero che Armando è diverso. Dunque, vede, finché voi due starete insieme, lui non entrerà in un salotto dove lei non può entrare. A queste cose può rinunciare, sì, è giusto che rinunci. Mi ascolti, se io le dicessi che ho la sensazione che non avrò ancora molto da vivere... Beh, dovrai rimproverarla perché ha troppa fantasia ed è troppo romantica.